Regione Toscana, il Consiglio regionale Benvenuti a un nuovo appuntamento con il Consiglio regionale della Toscana, la nostra rubrica di approfondimento settimanale che tratta i temi affrontati dal Parlamento della Toscana. E noi andiamo a vedere subito quali sono i temi affrontati nel sommario di questa puntata. Il Corcom della Toscana ha indetto un premio per comunicatore toscano dell'anno e a fine dicembre nella Sala delle Feste a Palazzo Bastoggi per l'edizione 2017 è stata premiata dal presidente Enzo Brogi Elena Favilli, scrittrice, giornalista e imprenditrice di successo, nata a Montevarchi, vive e lavora a Los Angeles. È stata premiata per il suo libro Storie della Buonanotte per bambini ribelli, scritto insieme a Francesca Cavallo, bestseller che ha venduto un milione di copie ed è stato tradotto in ben 36 lingue. Le autrici raccontano nel libro le straordinarie vite di 100 donne, a cui viene riconosciuto un potere di innovazione, di cambiamento e allontanamento da percorsi predeterminati. Le autrici raccontano nell'anno 2017 ad Elena Favilli per essere riuscita a diffondere in tutto il mondo storie di donne che hanno lottato per affermare la propria identità, realizzare i propri desideri. Brogi ha ricordato che il riconoscimento alla sua prima edizione viene consegnato a chi sia distinto nella propria attività grazie a spiccate capacità nel comunicare e divulgare, attraverso diversi canali, un tema, un messaggio di rilevanza sociale, un'immagine positiva della Toscana. Noi siamo molto contenti perché il primo conferimento del comunicatore toscano dell'anno è a una comunicatrice, quindi il fatto che sia una donna giovane che ha un progetto editoriale e imprenditoriale molto importante, che mette il ruolo della donna anche un po' controcorrente, anche un po' da altre direzioni, in primo piano è una cosa che ci dà grandissima soddisfazione. L'idea è proprio quella di premiare delle personalità che si sono distinte nella nostra regione attraverso dei temi a cui la nostra regione fa sempre riferimento, che gli sono molto cari, come quello dei diritti, è una cosa davvero molto molto importante. Poi l'idea anche di collegare il premio a una persona che ha successo e che quindi non ha certo bisogno di essere sostenuta nel suo progetto, però il premiato che può affidare come testimonio buonagurale è una piccola risorsa, 4.000 euro, ad una tesi magistrale, quindi a una nuova dottoressa, a un nuovo dottore in scienze della comunicazione, per una tesi che è stata riconosciuta dalle università di Firenze, di Siena e di Pisa, la migliore tesi in comunicazione del 2017. Per cui ci sarà anche questo passaggio di testimone che è una cosa che ci fa molto piacere. L'autrice ha commentato soddisfatta questo riconoscimento, non solo per il prestigio dell'istituzione da cui viene, ma perché guarda il futuro ai giovani e mi consentirà a mia volta di consegnare un premio alla miglior tesi dell'anno in comunicazione. I due vincitori ad ex equo, Elena Rosi e Daniele Mu dell'Ateneo Fiorentino, che hanno ricevuto 2.000 euro a testa. Sì, direi di sì che è stato proprio un regalo di Natale, no, non me l'aspettavo e sono molto contenta e molto onorata anche di essere la persona che inaugura questo premio. Questa è la primissima edizione, quindi è davvero un grande onore. Sono 100 storie esatto di donne straordinarie del passato e del presente, quindi anche del nostro presente contemporaneo. Sono donne che hanno fatto imprese straordinarie in qualsiasi campo, quindi ci sono scienziate, ci sono atlete, giudici, leader politici, ci sono chef. Quindi veramente c'è qualsiasi professione rappresentata, perché l'obiettivo era proprio di dimostrare, di far passare il messaggio ai bambini e soprattutto alle bambine che non ci sono limiti a quello che si può aspirare a fare e che appunto anche per le donne, qualsiasi professione, qualsiasi ambito è assolutamente possibile. Elena Favilli si è inoltre distinta per aver realizzato una start-up denominata Timbuktu, che mette in connessione genitori e figli. Il mio lavoro con Timbuktu ha sempre cercato di valorizzare la relazione tra adulti e bambini e di creare quindi dei libri o in passato anche delle app, dei giochi digitali che potessero facilitare gli scambi all'interno delle famiglie in generale, in particolare tra adulti e bambini. E questo libro, devo dire che è di tutti i miei lavori, è sicuramente quello che ha colto di più questo punto. Pensavo proprio prima che un anno fa, proprio in questi giorni, ero felicissima che avevamo vendute le prime 60.000 copie del libro, per cui poi questo successo, ora il libro è stato tradotto in 36 lingue e oggi annunceremo proprio qui il raggiungimento di un milione di copie vendute nel mondo. Quindi è sicuramente un successo che non mi sarei potuta aspettare. Però è anche vero, sì, che l'ho sempre pensato come l'inizio di un progetto editoriale più ampio e quindi innanzitutto a marzo del prossimo anno uscirà un secondo volume con altre 100 storie. E poi l'altro nuovo progetto su cui stiamo lavorando è una trasmissione radio che avrà lo stesso titolo e che uscirà prima negli Stati Uniti e poi, spero, nel 2018 anche in Italia. Favilli, nel raccontare il suo volume, ha parlato di storie di donne straordinarie, del passato e del presente, donne che hanno fatto imprese in qualsiasi campo, scienziate, atlete, giudici, leader, politici, chef. Fare una selezione di 100 donne, ovviamente le donne straordinarie che hanno compiuto e che compiono imprese straordinarie sono molto di più. Per cui diciamo che per noi questo primo libro è l'inizio anche in quel senso che è un po' il tentativo di voler dare voce, di continuare a dare voce alle donne che continueranno ad essere in mezzo a noi a fare cose incredibili e a spingere in avanti il futuro della nostra società. Per cui sicuramente questa prima collezione l'abbiamo sempre pensata come l'inizio di una collezione che continuerà a crescere, allargarsi. Ma io ho studiato per un anno negli Stati Uniti, in California, all'Università di Berkeley per cui il motivo poi, una volta completato il mio percorso universitario in Italia, dopo questa esperienza, avevo deciso di provare a tornare a San Francisco che è certamente un settore e un luogo in cui chi ha idee imprenditoriali e chi vuole provare a lanciare progetti innovativi, diciamo sicuramente alla strada più facile di quanto non sia possibile oggi in Italia. Quindi in Italia direi che manca ancora un po' certamente questa abitudine a facilitare di più le persone giovani con l'accesso ai finanziamenti, prima di tutto per cercare di lanciare i propri progetti. Si stava meglio quando si stava peggio? Traumi del passato e del presente, dal fotoromanzo al selfie. È il titolo del libro del duo comico Muzzi-Santini, presentato al Palazzo del Pegaso. Il libro, scritto a due mani dagli artisti con un mix di nostalgia e comicità, invita a rileggere il nostro passato e vedere il nostro presente sotto la lente beffarda della satira. Alla conferenza stampa ha partecipato il presidente del Consiglio, Eugenio Gianni. Ascoltiamo le interviste. Per presentare un libro che ha un titolo quasi profetico, si stava meglio quando si stava peggio e c'è il punto di domanda, perché neanche noi lo sappiamo, noi lasciamo le domande aperte. Ecco, ecco, la nostra novità, noi non abbiamo risposte, noi abbiamo solo domande, le risposte datevi da soli. Il libro è uno sguardo al passato e un occhio al presente, è un libro un po' strabico, però che vuole fotografare con ironia feroce il presente e vedere con ironia nostalgia il passato. Allora, c'è qualche cosa di Pieraccioni, perché per esempio ho rubato a Leonardo un post che aveva fatto su Facebook, glielo ho chiesto, dico posso rubartelo, perché mi piace come inizio di un racconto che ha a che fare con... Vabbè, vorrei raccontarvele queste cose, perché un po' mi dispiace. Comunque, c'è un po' di Pieraccioni, per esempio c'è un capitolo sui fotoromanzi e sono ripartito da quando facevo il film I laureati, dove ovviamente si parla di fotoromanzi e di pellicole. Lui risponde, ragazzi, io ve lo dico, vi sciupo i rullini. E a distanza di qualche anno, ormai sono passati 21 anni da quel film, i fotoromanzi non esistono più, ma non esistono più neanche i rullini. Quindi temo che sia davvero cambiato molto. E allora noi, la domanda, si stava meglio quando si stava peggio, si è fatta sapendo di non avere una risposta, ma provando, perché no, a dare degli input con questo libro, che poi è un pretesto per rivedere alcune istantanee del passato e riflettere su qualche sciocchezza che facciamo nel presente, insomma. Nell'ultimo secolo e mezzo sostanzialmente il modo per insegnare ai bambini quello che sono i valori della vita, attraverso quello che è un romanzo tradotto in 350, lingue e idiomi nel mondo, secondo solo alla Bibbia, all'epoca in cui mio figlio lo vedo silenzioso e attento, a nove anni, e poi vuol vedere cosa guarda la televisione, guarda i Pokémon, su cui poi se andiamo in un negozietto mi chiede di trovare il riferimento per poterci giocare e tenerselo insieme mentre va a letto, ecco, io preferisco Pinocchio ai Pokémon. Ma non voglio fare passatista, voglio semplicemente dire che se noi dobbiamo seguire quelli che sono i trend delle generazioni di oggi, prenderne atto e attraverso di loro vivere la nostra forma di comunicazione con i nostri figli, con i nostri nipoti, dobbiamo anche essere orgogliosi di un passato in cui non andavamo a prendere il pupazzo in Giappone, ma erano da 350 paesi che hanno visto tradurre nella loro lingua udioma Pinocchio ciò che producevamo noi. Innanzitutto un bilancio sobrio, perché non abbiamo aumentato di un euro quello che era la previsione dell'anno scorso e conseguentemente negli anni, nonostante il costo della vita aumenti, nonostante vi siano sollecitazioni a intervenire in tanti settori, il Consiglio svolge una funzione di tamponamento di qualsivoglia crescita e quindi di limitazione delle sue risorse. Devo dire che anche il dibattito in Consiglio regionale è stato un dibattito sereno che ha largamente condiviso il bilancio. Ci sono stati un paio di punti su cui alcuni gruppi consigliari hanno soffermato la loro attenzione rimuovendo qualche critica. Quello dell'autorità di partecipazione, dove effettivamente sono stati limitati 60 mila euro, ma su un bilancio complessivo che ancora porta l'autorità di partecipazione a spendere, questo è il bilancio di previsione, 338 mila euro. Quindi 338 mila euro complessivamente per progetti partecipativi mi sembra una bella cifra e se abbiamo risparmiato un po' è qualcosa di calzante rispetto a una potenzialità di intervento di progetti partecipativi che rimane molto molto forte. Il premio Bortolotti, ovvero un premio che non è stato finanziato l'anno scorso, è di prestigio nazionale, ma sotto questo aspetto ho espresso la massima disponibilità a parlare con gli organizzatori del premio. E poi la valorizzazione di cui io rivendico la precisa volontà di questo Consiglio e l'efficacia delle varie iniziative relative all'identità toscana. Perché è un dubbio che ritornare alle nostre radici d'orgoglio, all'abolizione della pena di morte che ha portato alla festa della Toscana che si svolge da 18 anni sempre con maggiore favore e formazione per i nostri giovani. Il Capodanno Toscano il 25 marzo, il risorgimento con il ricordo della festa dell'indipendenza il 27 aprile, la giornata degli Etruschi il 27 agosto e poi tutta una serie di iniziative che vanno ad esempio dal giorno della memoria al giorno del ricordo. Ecco che il Consiglio regionale della Toscana svolge un'azione che a mio giudizio è un'azione estremamente positiva sulla valorizzazione di un'identità che è quanto mai importante in un mondo come quello di oggi in cui si ha bisogno di sentire nelle istituzioni la testimonianza dei valori e la funzione didattica verso i giovani per ciò che significa essere toscani.